Per chiarezza quella cosa, non è una cosa centralista, per cui noi chiediamo l'autonomia giustamente, è prevista anche dalla Costituzione italiana, però non possiamo che la nostra essere centralista, chi chiede l'autonomia è che innanzitutto l'autonomista lui, la nostra cosa. E' una nuova settimana scelta, ad esempio, addirittura di cominciare il Vene, il Vene, il Vene, i fratelli veneri, i fratelli veneri, i fratelli veneri da centinaia di anni, sono proprio un fratello, si prendono un popolo lombardo, si è portato assieme. Adesso si tende dentro la possibilità, ai beni di inseriscire il Segurio dei Vene, adesso grazie a te, questa è un'ottima settimana, sono un'ottima cosa che assieme a voi, io non farò nessuna scelta, anticiparmi, tutto verrà, deciso assieme. per cui questo si può dire che non è assoluto, ci sono altre cose dello stesso genere, ma noi vogliamo rinnovare la lega, siamo qui per distrazione, per essere un centralismo romano, no, non è una falsa come per persone, è inutile di avere pazienza nei cambiamenti, credo che possano avvenire, è possibile che un mese fa un personale, scusami, che sono centinaia di persone, ci sono già legate i commentati. Quindi, il problema era sentito, è sconfondito anche il fatto che sono le mani di cuore.